Dottor Setti, furti in abitazione d'estate con finestre aperte, condizioni un po' particolari, aumentano e sono anche questi in incremento? Sì, sfruttano il fatto del caldo e quindi delle finestre o degli infissi lasciati aperti. Questo avviene sia di giorno ma anche di notte quando si è dentro all'interno a dormire. Normalmente si lasciano le finestre aperte per permettere la reazione e ci sono stati casi di soggetti che hanno approfittato di questo fatto per poter introdursi dentro casa. Quindi attenzione, cercare un sistema alternativo per rinfrescarsi anche quando la giornata è come attualmente molto calda e non lasciare comunque mai finestre aperte. Anche perché quando sono visibili dalla strada, dall'esterno, è molto facile poi che qualcuno vedendole, anche se non ha intenzione in quella serata di commettere furti, poi ci sono purtroppo malviventi che vedendo l'occasione la sfruttano. Ecco, ci sono anche altri sistemi che voi avete sempre segnalato agli utenti per cercare di contrastare difese passive però che possono scoraggiare e malintenzionate. Di notte sicuramente quello di lasciare le luci accese, sia all'esterno, soprattutto all'esterno dell'abitazione. La luce, l'illuminazione è un fattore che dà molto fastidio ai latri, molto, sia questo sia d'inverno che anche d'estate. D'estate è ovvio che fa sera, fa notte, molto più tardi, però per lo meno per cercare di evitare il pericolo durante le ore notturne di lasciare sempre delle luci accese all'esterno. Le finestre, gli infissi che sono dietro le abitazioni, nelle parti posteriore delle abitazioni, sono quindi meno visibili. Questo sarebbe il caso sempre di procurarsi delle inferiate o comunque dei sistemi di sicurezza passiva che possano in qualche maniera interferire e dare fastidio alle intromissioni di malviventi all'interno delle proprie abitazioni. Anche allarmi che facciano rumore sono utili perché spesso e volentieri questi ladri si scoraggiano un po' alle prime difficoltà. Sì, normalmente in maggioranza dei casi si scoraggiano la prima difficoltà, quindi l'allarme è sicuramente uno dei sistemi che scoraggia di più questi tipi di reati, proprio il furto in abitazione. Ha un costo, quindi c'è da valutare se è possibile farlo. Altrimenti comunque chiamarci sempre, quindi i numeri di emergenza sempre 113 e 112 subito per qualsiasi cosa, cosa che avviene. Perché noi tutti i giorni andiamo a verificare situazioni perché sentono rumori o comunque persone sospette, spesso questa è l'indicazione e noi le verifichiamo, le verifichiamo sempre. Certo che prima arriva la segnalazione e più possibilità noi abbiamo di poter intercettare e verificare al meglio la situazione. L'attivazione più tempestiva è e più dà fastidio ai ladri e più mette a noi in condizioni di poi di procedere.